ciao a tutti ragazzi e ragazze ora scusatemi che l'unboxing arriva in ritardo si ok mi sono fatto sistemare un po' la barba tanto poi vedete ricresce la barba non c'è problema allora scusate che arrivo in ritardo per questo unboxing ma ragazzi oggi ho avuto veramente da fare sto parlando di knack 2 o knack 2 chiamate come cazzo volete tanto è quello il gioco già sento che il disco è fuori asse quindi non me lo fate muovere più del previsto perché non capisco perché ultimamente i giochi arrivano fuori asse ragazzi andiamo 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 guardate il disco io ancora lo apro avete visto ho trotto la busta adesso io sento che il disco è fuori asse ragazzi eccolo qui ho detto io sentivo andiamo ad aprire e giustamente dentro non troviamo nulla vi faccio vedere bene la cover la cover ecco qui la cover di knack 2 knack 2 vi dico subito che il gioco nei vostri hard disk occuperà 40 giga ragazzi 40 ne sono tanti ne sono tanti cosa cazzo aspetti sony a farle console da 2 terabyte maremma cinghiale impestata o vabbè avete visto la cover insomma adesso anche knack inizia ad occupare 40 giga ditemi un po voi va bene allora vediamo subito un po dentro troviamo cosa troviamo dentro troviamo il classico foglietto che in certi giochi troviamo che non serva a nulla troviamo il codice per riscattare dimmi chi sei io ve lo regalo perché tanto a me è stato già regalato con playstation plus quindi ragazzi segnatevi questo codice e riscattatevi il gioco ok ormai lo regalano anche quelle patatine fritte della mccain diciamo e poi questo è il blu ray di gioco che fortunatamente non è graffiato ok ecco il blu ray di knack 2 ragazzi ok 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 e questo è knack 2 che vi ricordo domani 7 settembre non so se dalle ore 16 come ho scritto su facebook oppure dalle ore 17 ci sarà live la prima live di knack 2 ragazzi e ragazze quindi vi aspetto vi aspetto non aspetto il bimbo minchia perché mi stanno sulle palle vi aspetto a voi ragazzi che mi seguite ragazzi ok va bene per il mio canale non c'è posto per il bimbo minchia allora questo è stato l'unboxing di knack 2 io sono bello carico per la live di domani ragazzi sono bello 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 carico ok unboxing di knack 2 si conclude qui se vi è piaciuto questo unboxing lasciate un like se non vi è piaciuto lasciate un dislike perché il signor diablotex non si mette a piangere per il dislike ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce knack 2 vi ricordo che domani ci sarà la live sul mio canale youtube di ablotex channel diffidate delle imitazioni perché non escono bene ok ciao ragazzi mi raccomando domani vi aspetto per la prima live di knack 2 ciao a tutti ragazzacci ragazzacci ragazzacce 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 ragazzacce